Senza limiti, ripeto, senza limiti, 20 dollari. Sì, no no, vedi, naturalmente scherzavo. Dammene mille, dammi mille verdoni sul mio conto. Desiderato tavolo per lo spettacolo? Jackie Shore, sala Costelliscia. Sì, ma in fondo. Ecco mille dollari. Grazie. Mr Miles, posso parlarle un momento? Scusate. Se sei qualcuno, non ti rifiuta nessuno. E adesso giochiamo.